Signori animali della foresta, ora farete sentire i vostri versi perché poi i bambini li ripeteranno. No, 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 cos'è questo chiasso? Siete peggior degli animali della fattoria. Dovete fare i vostri versi uno alla volta. Avanti il signor coccodrillo. Avanti il signor elefante. Avanti la signora giraffa. Avanti il signor ippopotamo. Avanti il signor leone. Avanti il signor serpente. Avanti il signor serpente. Avanti la signora Zebra Avanti il signor Oparvacco Con questa pioggia dobbiamo sostenere tutto Ma riprenderemo con altri animali appena torna il bel tempo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info